solo un ornitorinco, che poi sono io. Per esempio, cyber teologia, fede e rivoluzione digitale, questo mi fa impazzire. Era come quelle cose, la resistenza ai ferri da stiro. E poi tutte queste cose che non... Microfono. Cioè, non vorrei che sembrasse una mancanza di rispetto, ma io veramente non so cosa vogliono dire molte cose. No, va bene questo, però io ti dico che, insomma, intanto questo... Fact-checking, non ho mai sentito... No, fact-checking, no, devi saperlo, fact-checking. No, io non devo affatto saperlo, basta... È il controllo delle dichiarazioni dei politici. Perfetto, cioè... È una forma di watchdog nei confronti... No, ma io sto attento a queste cose. È solo quello che si è fatto sempre nei giornali seri, solo che adesso si chiama fact-checking. Eh, sì, come... Sì, ma ormai il muro di Berlino è crollato, il muro di Berlino tra informazione... Ed è stata la parola gossip a buttarlo giù, perché il gossip fa figo. Mentre invece pettegolezzo è una cosa che dici... La portinaia ha detto che la signora di sopra è un po' attiva. Allora, questo è pettegolezzo. Se invece lo scrivi sul giornale è gossip, va bene. Va bene, veniamo all'argomento. Sì, veniamo al titolo, all'argomento. Allora. Tu da 30 anni hai una rubrica... È la più antica rubrica sui giornali italiani? Secondo te? Credo che porti abbastanza Iella a controllare. No, francamente non lo so, ma neanche... Ma non è neanche... Una volta si diceva la più seguita. Adesso ti misurano proprio lo spazio da qui alla tomba. Non lo so. Sono già 30 anni. No, ma scusa. Ah, però... Pensa di arrivare a 35, ma non lo so. 40 sono... Scusami Gianni, ma ho visto che quando sei andato a... Dove sei andato? La Rai 2? Quelli del... No, quelli che è il calcio. Certo, purtroppo sì. Ti hanno presentato con il miglior giornalista sportivo vivente. Quindi siamo in clima. Io non volevo dire questo. Comunque tu da 30 anni ogni domenica fai una rubrica che si occupa di giornali, no? Fondamentalmente sì, si occupa di giornali. Si occupa di giornali e noi abbiamo preso prestito il titolo di una tua rubrica, non diciamo di quando è perché è passato ormai tanto tempo, che è appunto Giornali Maiali, che raccontava appunto quella tendenza molto diffusa nel mondo dello sport, ma più in generale anche della politica e dell'informazione, a dire che è tutta colpa dei giornali, eccetera. No? Sì. Allora, diciamo che questa tendenza in qualche modo è ritornata in questo... Beh, sì. Ecco. Allora, la domanda che ti voglio fare, è una domanda seria però, dico, è colpa nostra? Cioè, dov'è che il mestiere di giornalista, come lo chiamava Giorgio Bocca, poi è diventato un mestiere fatto male? È così? I giornalisti possono essere considerati come appartenenti alla casta? Ti hai preparato? No. No. Mi aspettavo delle cose più frivole, comunque. No, questa è va bene. No, ma... Il titolo, peraltro, per la cronaca l'avevi fatto tu, giornali maiali, quando con grande successo dirigevi lo sport di Repubblica. I giornali maiali era... Era un bel titolo, secondo me. Vabbè, ma come sono fatti i giornali di oggi? Perché dei maiali, per antico proverbio, non si butta via nulla. Dei giornali a volte si buttano via i redattori, ma... Allora, abbiamo delle colpe? Sì, certo che le abbiamo. Questa diffidenza è aumentata molto da quando c'era informazione online. Cioè, praticamente... Sì, ebbè. Ebbè, ma non è così. Non sono assolutamente d'accordo. Comunque, vai. Non ti interrompo. Voglio dire, tutto il fenomeno del Movimento 5 Stelle nasce da messaggi scambiati con questo sistema, aggregazioni, simpatie, voti scambiati con questo sistema e tutti quanti sono accumulati da un profondo disprezzo del giornalismo. Devo dire, è abbastanza corretto nel disprezzare, perché metteva sullo stesso piano i giornali e la TV, quindi... Invece, molta parte dell'opinione pubblica tende sempre a dire, avete scritto, ho letto, mentre invece di tutti i celtroni che hanno un microfono in mano non si parla mai. Parlo di TV e TV private, e anche radio. Quindi è sempre colpa di qualcosa che hai scritto. Che noi siamo responsabili, sì, avremmo potuto opporci molto di più a certe forme di subalternità. Quindi che noi siamo una casta, francamente non credo, se c'è una casta nei giornali non è quella dei giornalisti. Tranne alcuni, vabbè. Ma siamo accomunati alla casta perché l'abbiamo sorretta. E quindi in un certo senso, come minimo, ci si può accusare di corretta. L'abbiamo sorretta, senza spiegarla molto, l'abbiamo pubblicizzata, l'abbiamo tenuta in piedi anche quando cadeva da sola. Poi arriva un momento in cui tutti i nodi vengono al pettine e quel momento è questo. Io personalmente non credo alle salvezze collettive, infatti sono già sette, otto anni che dico che rispondo solo di quello che firmo io. Perché dire voi giornalisti è come dire voi italiani, chi sono i giornalisti? Sono quelli che lavorano scrivendo i pezzi, sono quelli che lavorano nei giornali online, sono quelli delle radio, delle TV. E' troppo vasto per difendere o prendersi sulle spalle le colpe di tutti. Io credo che la nostra colpa maggiore, ed è quella che rimproverano molti ai politici, è quella di avere in buona parte, non tutti, c'è ancora chi continua, di aver abbandonato le strade e le piazze. Cioè di esserci chiusi in redazioni che sono sempre più tristi a visitarle e sempre più isolate. Cioè è una cosa che mi colpisce è questo. Mentre una volta una redazione era una specie di diatrio della stazione Termini, gente che usciva, gente che entrava, gente che giocava a pallone. Adesso quando io metto piedi in una redazione credo di aver sbagliato indirizzo, perché è una via di mezzo tra una banca e un ufficio di assicurazioni auto. Con tutto il rispetto? Con tutto il disprezzo che posso avere per le banche. Con tutto il disprezzo che posso avere per le banche, dove di caste ce ne sono molte. Va bene, ho parlato delle assicurazioni auto. No, è un'altra piccola casta su cui naturalmente nessuno metterà mai le mani perché non conviene. E quindi noi non siamo la casta, noi siamo quelli che probabilmente facciamo da megafono a molta gente che non lo merita. E questo è stato fatto indubbiamente negli ultimi anni e questo ci viene rinfacciato. Dopodiché ormai il malcontento è talmente salito che per fortuna non c'è più. Magari fossi venuto a Perugia 15 anni fa mi dicevano Ah, che cosa mi dice di Biscardi. Ma per fortuna non si parla più solo male del giornalismo sportivo, ma si è capito che può fare danni anche molto di più quello politico. E quindi siamo in un momento abbastanza interessante, penso, in cui servirebbe proprio un colpo d'ala alla categoria. Perché vanno bene tutte le nuove tecnologie, va bene tutto per carità, adesso ci abbiamo un po' scherzato sopra, ma se non c'è un forte senso di dignità, di rispetto dei ruoli e di sentirsi dei rappresentanti comunque dei cittadini e non dei megafoni del potere, di strada ce n'è poca, sia che tu lavori sul cartaceo che sul web. Sì, ti faccio una domanda. Tu hai diretto il mensile di Emergency. Sì. Ecco, che era un prodotto di grandissima qualità. Lo dico proprio dal punto di vista oggettivo, parlo di scrittura, parlo di immagini, di titolazione, no? Prodotto proprio di lusso. Allora, cosa è successo col mensile di Emergency? Beh, è successo che è uscito quando già si sentiva la crisi che hanno accusato molto anche i quotidiani e settimanali, figurati un mensile. E un mensile fatto soprattutto in quel modo, cioè parlando quasi sempre di problemi. Non era un mensile leggero, ma neanche pesante. Per la prima volta ho fatto eccezione alla mia regola di non accettare incarichi, facendo il direttore l'ho accettato ed è stata un'esperienza molto utile sotto il profilo umano, oltre che giornalistico, perché avevo una redazione molto giovane, mediamente sui 30-32 anni, tranne un paio. Quasi tutti già lì con Piss Reporter, altri presi tra quelli rimasti disoccupati da diario. Ed erano ragazzi tecnicamente bravissimi, con molte idee, ma anche con una spinta ideale, che nel caso andava bene. Però può essere questa la dimostrazione del fatto che non basta la qualità? Cioè siamo in un periodo, in un momento in cui... Siamo in un periodo difficile, io non ho le statistiche, perché appunto non avendo ruoli, ma mi risulta che gli unici giornali che vanno discretamente nelle vendite siano i settimanali di gossip, e gli altri, chi più chi meno, risentono del momento. Ma io vorrei dire comunque che è stato chiuso, che vendeva 23.000 copie, cioè con un editore vero il problema non l'avrei avuto. Se l'editore è emergency è chiaro che si preoccupa se c'è un deficit intorno ai 500.000 euro, dovuto a un sacco di cose, mancata pubblicità anche. E quindi da un punto di vista così giornalistico per me rimane una buona esperienza, molto buona, forse la migliore. Da un punto di vista del direttore per me si tratta di una testata sepolta viva e quindi piacere non mi fa. Va bene, anzi non va bene. È andata. È andata. Volevo dirti però, a proposito di categorie, per spiegare un po' come sono cambiati i giornali, vorrei parlare un po' di categorie esistenti all'interno dei giornali. E' per questo che l'utilità del coccio etrusco si manifesta in questo, no? Che può ancora raccontare come... Ecco, per esempio, tu De Bortoli dai giovani le hai conosciuto, cioè come sono i direttori quelli veri da giovani? Era già vestito da direttore a 22 anni, anche se era praticante a Courier Boy. E, beh, uno che negli anni, all'inizio degli anni 70, aveva sempre giacca blu e cravatta regimental, era destinato, voglio dire. Anche Andrea Monti era praticante a epoca, nel 76, e io gli ho detto, tu farai il direttore. E mi ha detto, ma scherzi. Quindi noi potremmo qui riconoscere... No, ma ha chiesto, perché gli ho detto, perché non vieni mai a giocare a bigliardo e sei un secchione. E infatti è diventato pluridirettore. Eh sì, perché ha fatto molto. Io su queste cose ci becco. I ruoli, vabbè, allora come... Allora, i grafici. I grafici hanno assunto nei giornali di oggi un ruolo... Qua piano con il live tweeting, per favore. Ma non è che hanno assunto un ruolo, hanno assunto un potere. Cioè, finché c'erano dei ruoli nei giornali, le cose funzionavano abbastanza bene. Non che adesso, per carità, io non so nulla del funzionamento. Essere pensionati a Milano, quando la redazione centrale a Roma, è come fare Heidi a Bellinzona. Quindi, pensa se io so come vanno i grafici a Repubblica. Però so di aver lavorato per molti anni alla Gazzetta dello Sport, dove i grafici non c'erano. A parte il Menabò della prima pagina, che facevano i capi redattori, io ne avrò fatte centinaia di Menabò della pagina del ciclismo. Con questo non voglio dire che fosse più bella la Gazzetta di allora, ne mi sogno di discutere... No, c'è anche uno... Dico solo che quando i grafici avevano meno potere sarà un caso, ma si vendevano più giornali. Sì? Sì, sono d'accordo fino a un certo punto, perché, diciamo, l'avvento dei new media ha fatto sì che il giornale di carta debba essere un prodotto sempre più, anche esteticamente... Vuoto. No, gradevole. Bello, presentato. Ma non avrai mai... È una lotta impari, cioè, quelli che tu chiami new media, io chiamo gli ultracorpi. vinceranno sempre, comunque, perché hanno delle possibilità di colore, delle possibilità di cambiare in continuazione. Cioè, per me vedere... Diciamo anche Repubblica IT. È un pochino come guardare un kaleidoscopio. A volte trovo anche delle cose che mi interessano molto. Per esempio? Specialmente i pinguini che scivolano. Una tua passione. Ti ho anche telefonato, no? Sì, sì, io ero molto orgoglioso. I pinguini che scivolano è il nostro master. Sì, ci sono... No, ma a volte ci sono anche i rettili che si mimetizzano, voglio dire. Non so, non so. Quella è una parte. Avevo le figurine Liebig da piccolo con gli animali e mi è rimasta sta cosa da lì. Comunque, senti, ma c'è una cosa che tu mi ripeti sempre. Ecco, se Leopardi... Sì, se Leopardi avesse fatto l'infinito oggi con uno dei nostri grafici, gli dicevano a Gobbo... A Gobbo, taglia l'ultima riga che non c'è stata una colonna il naufragarme dolce. Metti un'altra roba. Voi applaudite, ma Leopardi sarebbe rimasto a spasso comunque. Cioè, tra chi scrive e chi crea, cioè il creativo adesso è il grafico. Sì, è vero anche questo. Però questo, cercando di... Adesso... Di essere onesti. Sì, dico questo. Io ritengo che un giornale debba avere una grandissima ricercatezza grafica perché se no soccombe, no? Perché abbiamo mille modi di fruire dell'informazione. Quello che ti volevo chiedere io però è... Non me lo ricordo più. Vabbè, ti faccio un esempio personale proprio perché hai citato il messile di Emergency. Sì. Con una buona grafica, direi. Cioè, non è che io me ne fotto della grafica. Anzi, la vorrei alleata per proporre anche dei pezzi di 15 o 16 cartelli. Ah, ecco, proprio questo volevo chiederti. Il passo lungo. Come abbiamo fatto. Esatto. Se la grafica, come molto spesso, accade in tutti i giornali, tutti, perché ne leggo molti ogni giorno, mica solo Repubblica, se la grafica è un mezzo per ingrandire le foto, ingrandire i titoli e togliere spazio ai pezzi, io non posso dire che sono contento. Anche perché non faccio grafico, faccio giornalista. E quindi... Però i grafici sono giornalisti, tu lo sai? Hanno un contratto giornalistico? Sì. Non c'è dubbio. Però anche i generali e i soldati sono tutti militari. Poi bisogna vedere il rapporto di forza. Qual è? Secondo me il rapporto di forza sbilanciato. Cioè, a parte alcune firme... Ma, per esempio, tu ricordi... La domanda che volevo farti prima era proprio sul passo lungo dei pezzi, no? E cioè, ci sono dei momenti in cui uno va, no? Va e scrive, non so, i mondiali dell'80... Per esempio, a parità, tu eri sia in Spagna ed eri in Germania. Quanto è scritto nell'80... A parte la Repubblica non usciva il lunedì, però, insomma, il lunedì è scritto sicuramente. in che modo è cambiato il tuo pezzo dall'82 alla vittoria mondiale del 2006? È diminuito in proporzione del 30% almeno. Quindi... Ma anche la rubrica trentennale è diminuita, nel senso che era 90-95 e adesso 72-74, parlo di righe. e quindi questo ti crea dei problemi perché toccando vari argomenti devi anche avere l'abilità o la fortuna di collegarli, di trovare dei nessi, di andare a capo ma di riprendere il gomitolo e con meno spazio a disposizione questo è più difficile. Cioè, rinunci in partenza a un paio di argomenti perché ti portano via troppo spazio. Cioè, in parole povere dal mio punto di vista il giornalista della carta scritta è un pochino come i lavoratori dipendenti in Italia cioè i sacrifici li deve fare solo lui. Cioè, avevi 90 righe e se ti sta bene te ne becchi 60 ed è già tanto che non te ne chiediamo 30. Indipendentemente dall'argomento? Sì. Ci sì. Infatti una cosa che mi colpisce molto nei giornali penso a volte come li farei io ma evidentemente non avrò l'opportunità. E spesso ci sono delle notizie a due colonne che io darei almeno di apertura di pagina interna e viceversa. Ma questo vale un po' con tutto. Mi piacerebbe molto fare un giornale Zavattini era un giornalista anche lui con la tessera da giornalista e direttore di giornali e dirigeva anche Confidenze cosa non si fa per campare. E il giorno delle nozze di Elisabetta di Inghiterra anziché mandare l'inghiato ha pubblicato in prima pagina le nozze di una che si chiamava Elisabetta vicino a Reggio Emilia e l'hanno licenziato e ha fatto allo stesso no era il direttore ma posso licenziare anche i direttori hanno licenziato o no? No anzi complimenti di Rizzoli oggi non lo piglierebbero neanche a fare il correttore di bozzo Zavattini perché avendo qualche idea sarebbe pericoloso Senti invece fotografi e autisti ma ci sono vabbè alcune cose sono tu sei stato anche un inviato di epoca che era un grandissimo aveva il grande fiore di Bonatti all'occhiello ma aveva anche una batteria di fotografi con Giorgio Lotti che è quello che fece poi le foto a Mao Sergio del Grande Mauro Galligani che era più l'inviato di guerra e vabbè mi sono accorto di quanto servono i fotografi anche lì i pezzi avevano un passo lungo infatti a me interessava proprio scrivere d'altro che di sport e provare il passo lungo e se giri con un fotografo bravo ti accorgi che ti semplifica molto il lavoro non devi più descrivere in un modo lungo le acque del Po in piena perché tanto c'è una foto a colori e allo stesso modo questo può valere per un'Olimpiade anche quelli li ho fatti con i fotografi ma nei giornali secondo me si sta tagliando quello che è indispensabile quindi io sento come mi strappassero dei rami dalla corteccia i tagli agli archivi per esempio perché c'è la presunzione sbagliata che trovi tutto su invece non è vero ma anche loro sono figli cioè sono vittime sì sono vittime dei new media anche loro cioè io no non sono vittime dei new media sono vittime degli attori di una valutazione sbagliata sono vittime sì ma indirettamente loro sono vittime di una idea sbagliata fatta dagli amministratori ma partendo dai new media poi io sono sempre dell'idea che certe cose siano indispensabili i correttori di bozze per esempio che è un mestiere che mi sarebbe anche piaciuto fare poi mi sono accorto che andavo abbastanza bene a scrivere ma no corrette a vagoni comunque quando ancora c'era il piombo ecco Italia i correttori di bozze a cosa portano con buona pace dei new media perché questi sono old media a dei giornali spaventosamente scorretti senti la repubblica ci ha messo dieci anni prima di scrivere preta portè con gli accenti giusti è stata dura è stata durissima e non ci riusciamo nemmeno tutte le volte no no da anni ne sbagliano debacle 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 non ne parliamo ne sbagliano altri ma preta portè adesso è giusto senti però quando stavi a epoca è successo parlando di grandi fotografi grandi personaggi allora è successo un fatto posso dire emblematico me lo permetti è sempre meglio di iconico di emblematico anche iconico allora c'era Bonatti lì tu stavi lì Bonatti faceva dei servizi forse qualcuno poi li ha rivisti perché ne hanno pubblicati quando è morto Bonatti faceva da solo non so il deserto del Sahara oppure andava a fotografare a due metri i varani di Comodo la Patagonia a piedi queste cose qui che poi tra l'altro Bonatti ci manteneva un po' tutti perché i servizi li compravano in mezzo mondo a cominciare da Time quindi Bonatti era l'astro e naturalmente cambia direttore cambiano anche un po' i tempi credo no? la parola di moda era bisogna fare un giornale di servizi che io non ho mai capito che cosa volesse dire francamente non lo so neanche adesso a meno che tu non dia tutti gli indirizzi guardia medica delle farmacie sì le farmacie ma anche i tosacani i cinema a tosacani beh se bisogna un tosacani alle due di notte voglio dire altrimenti trovi tutto su internet perché si fa informazione a 24 ore su 24 per dare anche indirizzi ai tosacani se uno vuole tosare il cane alle 4 del mattino mi pare chiaro no? sì ma a me non importa perché tanto non lo faccio e non sono l'editore ma capisco che ci sono infusi orari c'è gente che lavora all'estero ma questa voglia di essere collegati e informati 24 ore su 24 io la trovo vagamente compulsiva cioè per un secolo la gente è andata a letto più o meno con le galline accompagnata sì accompagnata dall'ultimo tg della notte verso le 11 domani vediamo cosa è successo adesso secondo te c'è molta gente che alle 3 e un quarto di mattina vuole sapere se Murigno ha detto qualcosa o a quanto è lo spread e se sì di che gente si tratta no no perché io no no tu non puoi criticare no non puoi criticare così una parte importante dei nostri elettori non era una capitale no no ma almeno quanti sono non sto facendo il sito di Repubblica è il 20% dei elettori che si collegano dall'estero per esempio ma sono tutti con il fuso di 12 ore ma beh tutti fusi del mondo tutti fusi così questa è una spiegazione la seconda spiegazione è che di notte succedono dei fatti diciamo nonostante l'Italia cioè succedono e sono fatti che hanno bisogno di aggiornamenti questa tua chiusura insomma è abbastanza ma la mia chiusura è meno è meno dubbia della vostra apertura cioè 24 ore su 24 informazione 24 ore su 24 per me equivale all'apertura domenicale dei supermercati o degli ipermercati cioè voglio dire con la banalità degli old me eh per qualcuno è comodo perché non lavori al supermercato perché altrimenti no ma in casi del genere bisogna bisogna vedere no io sarei per questo e non perché tutto cada pioggia e venga yes sir cioè quando io dico chi sono mi esprimo male quanti sono mi esprimo meglio cioè se venisse accertato che il 80% degli italiani vogliono fare la spiegazione la domenica capisco ma più vicino ma ma io non credo che sia così oppure fino a dieci anni fa erano chiusi e non ci sono stati casi di suicidio perché non trovavi aperto cioè non dico la casalinga di Voghera ma anche il single di pietra pertosa faceva la spesa il sabato sapendo che la domenica era chiuso non è che ci voglia tantissimo ma tu non ti servi dai quei insomma ci sono soprattutto nelle grandi città quei frutti vendoli aperti anche tutta la notte tu non te ne servi mai non ti manca l'insalata ma secondo te io vado a comprare una mela alle 4 di mattina ma non è ma perché devo cambiare la mia vita per dare ragione a te cioè certo io vado da un fruttivendolo sì in orari normali cioè come tutti però adesso ci siamo un po' ho capito che su questo non possiamo trovare un accordo volevo tornare a Bonatti perché Bonatti diciamo racconta iconicamente diciamo una una trasformazione va bene questa direttrice di cui non faccio il nome perché è morta ma comunque è rintracciabile arriva lei arriva lei arriva lei e fissa un appuntamento a Bonatti che ci va e si sente dire prima tante moine guardi lei ha fatto molto però nella nostra visione del futuro c'è una cosa di servizi e lui la guardava e a un certo punto gli ha detto che cosa ne direbbe di una palestra di roccia con uno sconto per i lettori di epoca gestita da Bonatti e lui ha detto grazie ci penserò è uscito con degli occhi a palla io tra l'altro ero fiduciario di testata quell'anno e gli ho detto guarda giusta causa è come se ce l'avessi insomma poi non sono andati per tribunale ma lì è finita la collaborazione di Bonatti a epoca non l'hanno più vista giustamente senti che bello questo suono i compagni allora tu fai quello che farai quest'anno sarà il tuo tour de France numero? non lo so no ma non è non voglio non è il discorso di prima da quanti anni no credo 27 o 28 28 allora quanto è importante l'autista la persona che sta con te che viaggia con te e quanto è importante avere dei compagni di viaggio l'autista è l'unico compagno di viaggio e quindi è tutto mi risulta che tu abbia fatto dei tour con dei colleghi che a un certo punto sono stati scaricati senza fare nomi ah no io l'ho no vabbè quando ho rotto con l'equipaggio maltese non era quello non abbiamo fatto nomi cioè non è il caso ma io li faccio sempre credo che sia una cosa che la gente apprezza come si viaggia in un tour senza maltese benissimo sulla stessa macchina di maltese molto male infatti dopo sette giorni sono andato su quella di Barigelli e Pontani ma questo lo sai sì ma per quale io non capisco perché mi fai certe domande cioè siamo qui a parlare ai giornali maiali mica degli autisti no perché diciamo per la riuscita al di là del fatto che tu la persona che ha viaggiato per un sacco di tempo con te a lui hai dedicato hai dedicato un libro è un protagonista è una persona che è dentro il tuo primo romanzo no? sì quindi insomma parliamo di ruoli che magari all'esterno possono sembrare superfici ma è fondamentale perché stai praticamente 18 ore al giorno tra la macchina la sala stampa la cena il caffè del mattino stai 18 ore al giorno con una persona che deve essere molto affiatata con te e tu con lui altrimenti non è sopportabile è un pochino come stare in barca lì ho meno esperienza perché non mi muovo bene sulle barche e quindi Carlo Pierelli era il compagno ideale per fare queste cose ma io ho bisogno comunque di se non di avere qualcuno di avere una consonanza umana con quello di cui mi sto occupando che può anche essere è per questo per esempio che io non capisco certe cose perché come tu sai nella redazione vecchia noi avevamo il calcio balilla io nel cassetto avevo le carte da poker da scopa i dadi cioè quando c'era non allo sport a Milano Milano è una redazione allegra e un giorno di fianco a me c'era Ravelli volevo fare una partita a dadi gli ho detto dice no sto giocando a scacchi ah sì gli ho detto con chi con uno di Baltimora e io sono uscito sai come se avessi aperto una porta diciamo che i giornali nascono anche no mi chiedo perché è interessante un dibattito sulla sulla tecnologia perché per certi versi credo che avvicini è innegabile e per altri però mi pare che sia un moltiplicatore di solitudini devo capire da cosa dipenda se è questo o è quello probabilmente da chi la usa come tutti sì dall'uso dall'abuso che se ne fa c'è da dire che la tecnologia ti fa lavorare senz'altro più comodamente di prima beh non lo so francamente beh sì allora parliamo di Brera quando Brera andava al tour faceva 30 cartelle e c'era uno che le dettava e un altro che le scriveva i giornali vendevano molto più di adesso anche senza grafici e senza nuova tecnologia e io personalmente non dico che quella sia l'età dell'oro no assolutamente però è anche vero dico semplicemente che qui non è tutto oro no qui non è tutto oro però non si può non ci si può chiudere secondo me bisogna misurarsi con questi nuovi modi di fare giornalismo e poi resta comunque il lato tecnico che tu oggi premi un tasto e hai mandato il tuo articolo al giornale ma io non non ho nessuna intenzione di misurarmi ma no tu ti misuri oggettivamente allora no non mi misuro nel senso che tu sei ancora tu sei ancora se io avessi 20 anni sarei obbligato a imparare tutte queste cose e anche se ne avessi 30 avendone 68 posso benissimo farne a meno come di fatto accade cioè io i pezzi li scrivo e li detto dal tour ecco tu che succede al tour quando ti sentono con la lettera 32 sì lettera 32 allora c'è questa sala stampa sì con 800 giornalisti di cui 799 lavorano a computer e io li sento dalla nuca c'è sempre una troupe giapponese che fa il pezzo di colore con me ormai sono rassegnato e tu continui quando sono appena arrivati e non sanno dove andare a sbattere vedono un pirla che batte furiosamente su una Olivetti 32 e cambiano sempre a me sembra che si somiglino ma cambiano e c'è sempre una ragazza che chiede ma lei non ha paura di dar fastidio con tutto questo rumore e io le rispondo no cara sono loro che mi danno fastidio con il loro grande silenzio lei va via lei va via e io aspetto l'anno prossimo cioè col Giappone abbiamo dato però io voglio dire è una forma non voglio medaglie né niente ma non è è un attaccamento artigianale a una forma di mestiere che ho imparato così capisci? e quindi ripeto è un lavoro artigianale adesso ci sono dove li trovi i rigambi? i rigambi? ah beh ma c'è un paio di spacciatori cioè quelle cartolerie ancora vecchie con la tipografia i nastri sia rossi e neri che solo neri peraltro ne ho comprati 30 perché non si sa mai se chiudessero io li ho quindi si trovano è che farla pulire eccetera costa quasi più che comprarne una ma dove la fai pulire? esiste il pulitore? ci sono tre negozi specializzati ci sono ancora delle vecchie a Remington una nella zona di San Siro sì potete fare un servizio su Repubblica IT sotto i pinguini però mamma ho perso l'aereo o mamma guarda cosa sono diventata con no dicevo il mio non è di spregio è di fidenza voglio dire è di fidenza perché appunto è la stessa che può avere che ne so ripeto il pastore errante dell'Asia quando guarda in su e vede un aereo e lui continua ad andare a piedi con le pecore e io questo faccio senti Gianni tu sei no non si sente più mi pare comunque si sente allora tu sei lo posso dire io uno dei giornalisti più veloci che abbia mai conosciuto perché devo competere con i con le new allora va bene non lo dico per quello allora tu scrivi senza rileggere detti giusto sì è così e quindi per questo nei giornali in qualche modo al di là per la per la tua firma la tua velocità in qualche modo compensa la mancata velocità del fatto che tu scrivi con la macchina a scrivere non so se mi sono spiegato la mancata velocità di trasmissione vabbè quella lì quella roba io parlo di tempi io parlo di tempi totali da quando tu allora io devo rispettare i tempi totali di uno che ha gli strumenti nuovi esatto altrimenti l'hai detto in italiano io non riuscivo a dire no altrimenti non sarei sopportato nemmeno da Repubblica se ci mettersi il doppio sì allora quello che ti dico io da parte mia è che nel cioè nel il profilo ideale di un giornalista giovane di oggi diciamo che ha 25 anni oggi la velocità è una qualità importante soprattutto se deve lavorare sul web per me la velocità vale quanto la bella scrittura no allora per me no ecco volevo volevo fare un discorso con te sulla velocità al di là del fatto che tu sei oggettivamente veloce però tu sei un fuoriclasse vabbè per te la velocità è una qualità giornalistica oppure no? sì ma non la prima cioè secondo me prima ne vengono altre due o tre e poi se sei veloce è meglio quali sono? ma secondo me vengono prima la padronanza della lingua e della materia di cui scrivi che poi può essere politica estera o ciclismo non devi saperne comunque e la terza deve essere la sensibilità quale che sia l'argomento e la quarta la correttezza o l'onestà professionale o il rispetto della deontologia dopodiché se tu sei più veloce e rispetti queste quattro ho tanto di cappello la mia paura è che la velocità sia diventata il primo requisito ma allora cioè siamo alla pistola più veloce del West nel Saloon non è più solo giornalismo è un giornalismo basato su dei tempi da 200 metri e è anche per quello che mi preoccupa perché secondo me oggi il vero problema dei giornali credo anche tuo come responsabile di ti è che di notizie non è che ne arrivano poche ne arrivano troppe e quindi c'è da fare cosa che una volta si faceva molto meno un grande lavoro di A di valutazione veloce della notizia cioè di peso specifico B di collocazione non posso dire in pagina ma in pratica lo è c'è un menabò di gerarchia della notizia e di valorizzazione ce ne sono ce ne sono troppe allora io ho sempre visto questo mestiere partire da pause di riflessione non dico che durano anni e ore ma che comunque un pochino si pensi prima di scrivere la mia paura è che adesso è pronti via vroom uno arriva a Repubblica IT a dare la notizia a 42 secondi prima del corriere ed è un genio invece è solo molto veloce questo della velocità secondo me è un problema serio perché la velocità unire la velocità alla perfezione non è così semplice nei giornali o diciamola cioè ti espone anche a degli errori di valutazione a degli errori di scrittura vabbè che poi tutto si rimpasta no la stessa notizia si può scrivere 8 o 10 volte e su questo il collega Camus ha già scritto un libro il mito di Sisypho perché non fai che portare avanti lo stesso masso però allora possiamo però dire che c'è un luogo per la velocità che è internet cioè che è il luogo della notizia il luogo del tempo generale e c'è il luogo della grande qualità che è il giornale di carta questo lo possiamo dire però ma lo potremmo dire se il giornale di carta avesse sempre una grande qualità a volte ce l'ha a volte non ce l'ha devo dire che Repubblica ci vada ancora abbastanza compatibilmente con i tempi questo twittatelo per favore se possibile no perché se non sembra che no mi colpiva anche un'altra cosa non si fanno sconti a nessuno lo so mi colpiva anche un'altra cosa che no prego fado io mi ha colpito che tu hai dato come qualità di un giornalista 4-5 cose che non vengono insegnate in nessuna scuola di giornalismo infatti vedi come sono fatti i giornali è evidente che non vengono non solo non solo insegnate nelle scuole di giornalismo si ma tu non puoi insegnare la sensibilità intanto secondo me le scuole di giornalismo si si può insegnare allora perché io devo criticare non so Murigno anziché perché non insegnano calcio eppure hanno delle squadre di vertice dove si presume che arrivino giocatori di vertice che magari non sanno stoppare ma va bene perché io presumo e pretenderei da uno come loro che fossero anche dei maestri di calcio come lo è stato Lidl come lo è stato Zeman cioè gente che ti può migliorare tu non hai sensibilità o non hai velocità benissimo mi capiti in redazione e io cerco di migliorarti questo profilo secondo me allora perché non devo dire che nei giornali questo lavoro con un ragazzo che arriva non lo fa quasi più nessuno perché tanto chi se ne frega infatti è questo io sto dicendo il punto è questo da una parte ci sono le scuole di giornalismo che secondo me pur non insegnando in nessuna di queste per fortuna danno comunque una formazione e danno finalmente un accesso alla professione in qualche modo regolato cioè tu hai l'idea che attirà delle conoscenze personali e le raccomandazioni quelli bravi ecco poi c'è un lavoro che è il lavoro del capo cioè della persona del capo dei quadri come li chiamiamo come li chiamano insomma quelli che che dirigono i vari settori per me non sono quadri né coppe né fiori e neanche picche semmai pecche sì questo te lo aspettavi no non me l'aspettavo ho perso il filo volevo dire che quelle qualità di cui parlavi tu quelle sono qualità che si insegnano e si imparano all'interno della redazione all'idea del fatto che la sensibilità o la curiosità è una qualità che tu hai pure a 12 anni pure a 15 anni e forse il giornale è per quello puoi averla a 15 anni però la devi applicare a un giornale cioè quindi non è la sensibilità per dire guarda c'è un gattino che piange lo porto a casa certo va bene anche quello la devi applicare a quello di cui stai scrivendo però quello che mi che mi lascia molto perplesso nei giornali non da oggi ma da almeno da almeno 30 anni è che non vedo più quelli che insegnano e quindi una volta non c'erano le scuole cioè capitavi capitavi in una redazione tu come sei capitato alla gazzetta? devo averlo già detto ma non ci crede nessuno comunque io sono arrivato perché ero bravo in italiano al liceo Manzoni di Milano e la gazzetta dello sport non la fiera letteraria aveva un accordo con sto liceo non tutti gli anni ma insomma si faceva segnalare i due più bravi in italiano e anche veloci forse no allora non serviva figurati sì oggi forse magari poi ne racconto una buona visto la velocità comunque quando vi ricordate Olimpiadi 72 Fedain attacco alle palazzine e il limite della gazzetta era le dieci e mezza per la chiusura e la cosa non si era ancora risolta e il direttore ha detto ragazzi mi sono rotto il cazzo tutti salvi nove colonne e siamo andati in pizzeria li hanno sterminati tutti il giorno dopo tutti morti posso raccontarne un'altra? no una volta lì però trovavi quelli che ti consideravano un investimento del giornale io ho davvero molta gratitudine a questa per quelle persone che hanno avuto pazienza proprio a insegnarmi l'abc del giornale perché io magari potevo sapere tutto di Carducci ma come si taglia un pezzo in tipografia o come si fa un menabò o le cose da evitare tipo il punto di domanda nei titoli era il tabù che è un giornale da risposta ma come si taglia un pezzo in tipografia partendo dal basso conti venti righe tagli no? sì normalmente quelli grossolani tagliavano l'ultimo periodo senza manco legge infatti mi hanno detto questo non è un tema che tu fai il bell'attacco e la bella coda che ti fa la coda nove volte su dieci te la tagliamo va bene allora ho detto bell'attacco sì sì bell'attacco sì va bene però con la notizia dentro devi fare due coda una al penultimo capo e una all'ultimo in genere si fregano così no vabbè ma si interlineava anche comunque voglio dire c'era gente che ti insegnava tutto questo che è l'interlinea scusa non lo so e quando 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 il pezzo è corto ah spazi sì spazi scusa si chiamavano interlinea una terminologia un po' interlinea non lo conosco sì mi rendo conto certo è per questo che mandano in giro gli etruschi sai quello che dice ma si fa il testimonianzo del 15-18 no è che tutto è successo molto in fretta capisci sì però tu diciamo se come Bernardo Valli era il più bravo prima di internet adesso Bernardo Valli è ancora il più bravo di Repubblica dopo internet ma ce ne serve? eh? la usa? no la usa sì ma chiaramente lavora più comodo però non è che sono cambiate cioè tu in qualche modo vuoi far io su Valli sono su Valli sono d'accordo è bravissimo su Valli sono d'accordo è bravissimo era in Vietnam era in Vietnam adesso va in Iraq però però oltre che gli autisti e gli archivisti nel giornalismo è molto cambiata la figura dell'inviato intanto perché tendono a nominarne sempre di meno perché pare che costino di più non lo so francamente per me un inviato mangia come un redattore ordinario non è che ostri che vabbè una volta l'inviato nei giornali era una cosa veramente un gradino al di sotto di Dio padre quando uno era inviato il pezzo arrivava idealmente in guanti bianchi mettevi gli acapi facevi un titolo possibilmente da inviato e non lo rintracciavi mai perché voglio solo ricordare che parlo di un giornalismo non solo senza new media ma anche senza telefonini e senza fax qui però la tecnologia ti ha aiutato? no perché così mi rompono le palle 18 ore al giorno non mi ha aiutato una volta spedivi il pezzo a rivederci cercavi il miglior ristorante di Friburgo per dire Friburgo che non è facile trovarne e buonasera al massimo ti potevi spingere ma era complicato anche telefonare dalle cabine quindi telefonavi verso le 9 o 9 le 8 tutto a posto si ciao domani adesso l'inviato però poi ti capitano gli incidenti tipo Monaco lì l'incidente però non è capitato all'inviato è capitato è capitato alle chiusure no perché ricordo un altro episodio di Monaco allora è il famoso episodio Brera-Bocca per cui si sono sono andati un po' in accetto sì ma lì non è che avesse torto Brera no lì se vuoi raccontarlo era giornata di riposo alle Olimpiadi per cui Bocca era andato in gita con Silvia Giacomoni sua moglie o sua futura moglie sul lago di non so Costanza o dove e nel frattempo c'era stata appunto spari assalto alla palazzina degli atleti israeliani morti polizia quando Bocca viene a saperlo mentre sta cenando sulle rive e torna rapidamente a Monaco trova che tutti i come direi i servizi sono già stati distribuiti da Brera a fossati a signori a chi c'era per cui lo accusa di averlo scavalcato in verità quella volta lì può darsi che lo abbia fatto volentieri ma lui non era reperibile ma è vero che Brera lo accoglie in accappatoio con il sigaro perché aveva già scritto tutto no questo non ho mai raccontato lo racconta a Bocca lo racconta a Bocca in un libro bene io penso che poi alla fine noi possiamo dire che i bravi restano bravi no i bravi possono diventare schiavi stavo finendo il discorso dell'iviato scusa allora già ne fanno pochissimi perché non conviene ma forse perché ne hanno fatti troppi prima forse ma questi non sono affari miei quindi non lo so se ne hanno fatti può darsi adesso l'iviato che prima era quasi Dio è un povero disgraziato a cui continuano a telefonare in continuazione oh c'è una frase presca che dice sta cosa e lui dice vabbè c'è abbiamo sentito su sky che e vabbè alla terza volta diceva ma andateci c'è un A no un A no tutte ste robe qui cioè l'iviato praticamente è una specie di collettore di tutto quello che vedono e passano i redattori quindi è molto condizionato a volte gli infilano delle frasi senza neanche avvisarlo un'altra brutta cosa delle una volta a epoca abbiamo scioperato perché era state tagliate cinque righe senza avvertirlo a un corrispondente scioperato sì sì e su queste cose direi che oggi non potrebbe succedere ma è anche per quello è anche per quello che abbiamo perso un po' di di carisma perché abbiamo perso di vista anche i nostri diritti non solo i nostri doveri e quindi è una cioè mi sembra abbastanza una professione oggi in mezzo al guado io non sono pessimista no anche perché di giornalismo se fosse in mezzo al guano sarebbe peggio chiaramente per ora invece è una cosa così sta sta cambiando pelle può essere qualcosa può essere qualcos'altro ma anche perché siamo sicuri che di giornalismo ci sarà sempre bisogno no? non è che possiamo fare a meno dei giornali e dei giornalisti ci sarà sempre più bisogno di buon giornalismo bene e non di cose spacciate per giornalismo io sospetto anche questo che chiunque scrive un blog è convinto di essere un giornalista ma questa è semmai una sua convinzione personale è un sospetto è un giudizio che dà il pubblico abbiamo passato una vita a cercare di evitare di essere tuttologi e siamo circondati grazie alle vostre cose no non è così comunque io ti ringrazio Gianni volevo dire a proposito dei giornalisti che c'è una raccolta di firme è un'iniziativa per la libertà di informazione a livello europeo che si può firmare all'ingresso dell'hotel ringrazio Gianni abbiamo finito grazie a tutti 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 grazie a tutti